Lunedì, mentre in altri 30 municipi si tenevano le convalide delle elezioni di sindaci consiglieri, a Voltago Gordino e Lozzo di Cadore non c'era nessuno a festeggiare. I due comuni sono stati commissariati e la prefettura ha deciso di inviare il vice prefetto Antonio Russo nella Gordino e il vice prefetto aggiunto Andrea Celsi in Cadore. Traghetterà nei rispettivi comuni, dove non si è arrivati al quorum, fino alle elezioni amministrative del 2020. Le sensazioni che provo adesso non sono esattamente positive, ma non per me stesso, in quanto non la ritengo una sconfitta personale. È una sconfitta del Paese. Già ritenevo una sconfitta il fatto che ci fosse una lista sola, il fatto che saremo commissariati è una sconfitta doppia. Perché penso che un territorio che non è in grado di autogestirsi è un territorio che ha dei problemi. Marta Gon, consigliere uscente, avrebbe voluto continuare il lavoro dell'ormai ex sindaco Mario Manfreda. Probabilmente la nostra sconfitta non è dovuta alla capacità di amministrare oppure no. È data da un dissenso fatto per altre motivazioni che chi da tanti anni amministra è soggetto comunque a subire. Quello che auspico è che questo dissenso si trasformi da puro chiacchierio al bar oppure al digitale sulla tastiera, si trasformi in qualcosa di concreto e ci sia tempo, un anno, per formare un gruppo che comunque si metterà a disposizione, come abbiamo fatto noi per tanti anni, per governare il Paese al meglio. Grazie. Grazie.